Una maxi coperta raffigurante il ritratto di Nelson Mandela per i 100 anni dalla nascita di Madiba. È l'iniziativa di Caroline Stein, fondatrice dei 67 Blankets, che ha realizzato il più grande ritratto in lana di Mandela. Caroline ha chiamato a raccolta il popolo di Facebook creando un gruppo intitolato 67 Blankets for Nelson Mandela Day e in pochi giorni centinaia di persone da tutto il mondo hanno lavorato a maglia alcuni pezzi del gigantesco ritratto. Tra questi anche i detenuti di Zonderwater. Beh, è il centenario di Mandela qui e quale miglior modo per rendere omaggio a Madiba se non con il più grande ritratto su coperta di lana al mondo, afferma l'idiatrice Caroline Stein. Centinaia di persone si sono messe all'opera e hanno fatto delle coperte grigie, così tante che l'anno scorso il Sudafrica si è trovato due volte a corto di lana grigia.